Parti! Cavalli del premio di Capua. Questa è il ritmo giusto per Andamuciaccio che si mantiene a seconda al largo di Robinovnavan. Zargun e Ninario invece curvano all'interno rosicchiando metri nel cuore del gruppo. Nika avendo alle spalle i giovani rampanti Mission Boy out of time. Questa è la situazione con i cavalli che stanno colpettando la piegata. Sempre in vantaggio Greg Passa nei confronti di Andamuciaccio e di Robinovnavan. All'interno c'è sempre Zargun, poi ancora Ninario, Nika, ancora più dietro a Mission Boy out of time che si butta al largo di tutti con Greg Passa che è sempre davanti nei confronti di Zargun. Robinovnavan e Andamuciaccio si prepara out of time al largo di tutti. Poi ancora Ninario, Nika e Mission Boy con Andamuciaccio che si prepara l'attacco di Robinovnavan ma si prepara anche out of time. Zargun all'interno che dice la sua, all'alti più dietro. Out of time che va all'attacco di Andamuciaccio. Robinovnavan prova a diventare in quota ma è una cosa tra noi con out of time che scatta su Andamuciaccio che prova a tenere botta. Out of time che passa su Andamuciaccio. Out of time su Andamuciaccio. Out of time su Andamuciaccio che non molla ma è out of time che passa all'islancio dell'ultimo tratto. Out of time che vince il di capo su Andamuciaccio. Poi Robinovnavan e Nika. Out of time, la vendetta del giovane.